Musica Onori alla bandiera di guerra del decimo battaglione carabinieri Campania Con una cerimonia solenne nella caserma salvo d'acquisto, l'arma dei carabinieri ha festeggiato i suoi 200 anni schierando un reggimento di formazione in armi con la bandiera di guerra e la fanfara del battaglione Campania. Dalla tribuna davanti alle massime autorità civili, militari e religiose di Napoli e della Campania il comandante interregionale carabinieri Ogaden, generale di corpo d'armata Franco Mottola ha esortato governo e Parlamento a procedere con urgenza alla riforma del sistema penale per evitare la percezione che il lavoro dei carabinieri e delle forze dell'ordine venga vanificato. Abbiamo contribuito anche formalmente come giunto e come consiglio comunale a questa storica festa per il nostro paese 200 anni più dell'Italia, da 1814, Napoli medaglia d'oro al valore militare quindi l'arma dei carabinieri fa parte della storia di questa città anche con l'Annunziatella siamo molto contenti perché rappresentano uno degli elementi caratterizzanti del nostro paese. Grazie a tutti!